Il cliente arriva, lo saluto, le chiedo cosa desidera. Tu ti metti vicino a me, attenta, ricevi la borsa o il capotto. O l'ombrello, c'è l'inverno. O l'ombrello. La prima cosa da fare è provare la temperatura dell'acqua. Deve essere piacevole. Siediti. Ricordate di massaggiare con dolcezza. Per questo la prima cosa è che tu devi essere rilassata, capito? Poi ti avvolgi la testa con l'asciugamano, lo porti da uno di loro due, che sono quelli che fanno colore, piega e taglio. Ma imparerò a tagliare anch'io. Per questo devi osservare. Molto bene come lo fanno loro. E ci sono voluti a me tre anni. Tre anni? Tre anni, non sono niente, Bianca, vedrai. Dubbi, domande? Concentrate e andrà tutto bene.